ciao vergine come stai allora partiamo con te nel ciclo diciamo dei segni di terra andiamo a vedere con sole tre carte qual è il messaggio per te che viene fuori ok allora abbiamo un tre di spade un nove di bastoni e l'eremeta allora ovviamente non è che questo messaggio riguarda tutta la tua vita in questo momento è questo il messaggio che è venuto fuori allora vergine qui viene fuori che tu hai hai o avrai una delusione un dispiacere mi dispiace ma io devo dire le cose come quello che vedo ma secondo me l'hai già avuto l'hai appena avuto hai avuto un dispiacere avuto una delusione insomma c'è qualcosa che ti ha ferita e ti ha messo molto in guardia cioè è come che tu abbia le difese molto alte rispetto a la la sfera del contesto dove tu hai avuto questa delusione ok questa ferita vuoi vederci chiaro fondamentalmente vuoi stare in pace vuoi stare da solo non come concretamente come può fare un eremita ovviamente la vita continua però insomma ti vuoi rifugiare un po dentro di te e vedere chiaro su questa delusione che hai avuto questa ferita che hai avuto che ripeto può essere io rimango nel generale perché è un messaggio per tante vergini un messaggio con sole tre carte sappiamo che il tre di spade simbolicamente è il classico tradimento sentimentale ma insomma non si può ovviamente limitare a questo è un dispiacere è una delusione è una ferita che può riguardare qualsiasi ambito della tua vita ok qualsiasi sfera della tua vita rispetto a questa cosa che è successa tu vuoi vederci chiaro tieni le difese alte vuoi vederci chiaro vuoi capire perché questa cosa è successa ok vuoi un attimo come come insomma come fa la vergine insomma vorrebbe sempre diciamo mettere i punti punti sul sul i puntini sulle i ok comunque fatto sta che con l'energia dell'eremita con questa lanterna no che illumina proprio questa parte quindi la parte della ferita della delusione stai cercando di o di capire dentro di te e sicuramente quello è il processo principale che stai facendo perché questa cosa è successa e o ti è successa e in comunque anche capire un po' al di fuori di te ok questa cosa quindi vergine questo è un po' il messaggio che è arrivato dalle carte io spero che ti risuoni e sappiami dire eventualmente nei commenti io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao